La prima cosa è la chiarezza, poi dalla chiarezza si vede chi deve avere la giustizia, o noi, o il progetto che ha sparato, solo questo. E voglio, prima di tutto come stanno dicendo i giornali, che sono un boss, un capoclan, niente è vero, ho fatto i miei errori nella vita sì, sono vegliato speciale anche, sì, è vero, ma non ho mai pagato i reati di associazione. E non potete dire che io sono un capoclan, un boss, il figlio del boss, per infangare ancora di più mio figlio. Chiedo la chiarezza e dalla chiarezza si vede chi deve avere la giustizia, se la giustizia esiste, speriamo che esiste. Ti avevi chiesto un'altra cosa, il fatto di non aver saputo tuo figlio che fine avesse fatto. Niente, il mio figlio è stato ucciso alle 3 di notte, alle 10 mattina niente. Io lo chiamavo sempre, lo chiamavo e lui non lo rispondevo. Per voci di gente che hanno visto il motorino fuori la questura, hanno detto, sei il motorino su quale attrezza. Mia moglie è andata là, fuori la questura, sì, non va a fare il caos, diciamo. Sì, stanno sopra i ragazzi, tutti e due, non vi preoccupate. Dopo una mezz'oretta è sceso un poliziotto, la mamma è di caiava, è presa a mia moglie, salite sopra. Perché io gli ho detto a mia moglie, lo devi vedere perché quello è minoreno, diggelo ai poliziotti. Il poliziotto l'ha presa e l'ha salito sopra. Mia moglie è convinta che andando sopra, vedendo il figlio, magari il figlio mi era andato restato. Sì, dopo la mia moglie dice, il figlio si sta all'obbidore, perché non è buono il figlio, il figlio si sta all'obbidore. E va tre morti da una oltre. E va via. Basta. Grazie. Grazie. Grazie.